È sempre più preoccupante la crisi del settore ittico. Le stringenti regole europee che limitano i giorni di pesca e gli stock, la concorrenza talvolta sleale praticata dai pescatori di altri stati e la pesca di frodo, sono problematiche che da tempo mettono in difficoltà il comparto. A queste, ha spiegato l'assessore alle attività produttive di Fiumicino, Erika Antonelli, si aggiunge anche il caro gasolio, aumentato del 60% rispetto allo scorso anno, come denunciato da Federpesca. Ferma restando la necessità di salvaguardare l'ecosistema marittimo, ritengo comunque fondamentale tutelare un settore produttivo ed occupazionale molto importante per il comune di Fiumicino, che rappresenta la prima marineria regionale per quantitativo di pescato e la seconda per numero di imbarcazioni dopo anzio. Intanto, ha concluso Antonelli, abbiamo avviato un proficuo rapporto di collaborazione con l'autorità portuale, con cui abbiamo condiviso un progetto di rifacimento e messa in sicurezza della banchina, partecipando ad un bando del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca. A breve dunque arriveranno le risorse della Regione Lazio.